ho terminato il il mio quinto giro tutto di maglie alte ed ho contato quante maglie alte avessi e ce ne sono 163 poiché adesso la lavorazione deve essere suddivisa su quattro lati quindi mi serve una maglia alta in più che andrò a lavorare prima di chiudere il quinto giro tra le maglie alte quindi lavoro una maglia alta e chiudo il giro come vi dicevo dobbiamo suddividere in quattro parti quindi 164 maglie diviso 4 mi risulta 41 maglie alte per lato e da qui dobbiamo iniziare anche a creare delle piccole diminuzioni quindi io lavoro 2 catenelle ed una maglia alta come se le avessimo chiuse insieme quindi vi dicevo 41 maglie quindi 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 26 27 28 28 29 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36 36 37 37 38 39 39 e chiudiamo 40 e 41esima mai alta insieme quindi 40 e 41 36 37 36 36 37 39 37 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 3 29 37 38 incluso 34ardo 6 Jillian 39 37 37 27 37 37 37 45 40 Alrighty 38 37 37 37 37 3 37 37 37 37 38 am 38 37 47 37 38 38 38 2 e le chiudiamo insieme e come abbiamo fatto per il primo gruppo arrivata alla quarantesima chiudiamo la quarantesima e la quarantunesima maglia insieme quindi lavoriamo a maglia alta come prima fino a raggiungere la 40 e la quarantunesima maglia 39 e chiudiamo insieme la 40 e la quarantunesima maglia quindi lavoro una maglia alta l'altra maglia alta e le chiudo insieme adesso lavoriamo un altro gruppo di 41 maglie alte quindi la prima e la seconda maglia le lavoro e poi le chiude insieme quindi una due e chiude insieme in questo modo iniziamo a segnare delle di piccole divisioni e riprocediamo contiamo le maglie alte le lavoriamo fino alla trentanovesima e poi chiudiamo la 40 e la quarantunesima insieme e lavoriamo 40 e 41 e le chiudiamo insieme e riprendiamo la prima e la seconda maglia del terzo gruppo di 41 maglie alte chiuse insieme quindi 1 2 chiudiamo insieme lavoriamo mai alti successive e chiudiamo insieme 40 e 41 termino il giro lavorando la 40esima e la quarantunesima maia alta le chiude insieme e chiude il giro sull'unione tra la prima e la seconda maglia alta dell'inizio del giro qui sopra le maglie quindi poi lavoro di nuovo 1 2 3 catenelle mai alta poi procedo a lavorare tutto il giro a maglie alte sino a raggiungere l'unione che abbiamo effettuato chiudendole la la 40 e la quarantunesima maglia alta qui quindi lavorerò la trentanovesima e la quarantunesima maglia adesso procediamo a lavorare tutte maglie alte senza problemi e vi farò vedere alla fine quando raggiungiamo il punto ho raggiunto a maglie alte il punto della prima diminuzione effettuata nel giro sottostante quindi lavoro una maglia alta non chiusa lavoro una maglia alta sull'unione della diminuzione del giro precedente e chiudo le maglie insieme adesso dobbiamo lavorare in giri di andata e ritorno diminuendo all'inizio e alla fine del giro un attimo che riprendo il filo ecco qui quindi lavoro una due tre catenelle volto il lavoro il lavoro la maglia alta successiva alla diminuzione poi lavoro tutto il giro a maglia alta sino a raggiungere la fine che effettueremo una nuova diminuzione termino con una diminuzione quindi lavoro la penultima mai alta lavoro l'ultima mai alta cioè lavorando la maglia alta sul sul punto di unione della diminuzione del giro sottostante e chiudo le maglie insieme in questo modo effettuato una nuova diminuzione lavoro 3 catenelle è volto il lavoro adesso dobbiamo lavorare in giri di andata e di ritorno effettuando le diminuzioni all'inizio e alla fine della riga quindi lavoro nuovamente una maglia alta lavoro tutta la riga a maglie alte e d'effetto la diminuzione alla fine della riga così devo lavorare fino a raggiungere che mi nel ritrovarmi solo 9 maglie alte centrali allora come potete vedere ho effettuato la mia ultima diminuzione e mi ritrovo con 9 maglie alte adesso lavoro 3 catenelle una due tre volto il lavoro e lavoro tutte maglie alte quindi 9 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 8 e la nona la vado a lavorare sulla chiusura delle due maglie alte chiuse insieme quindi qui sulla punta e ho le mie 9 maglie alte centrali e adesso lavoro in giri di andata e ritorno per 15 righe quindi per 15 giri lavorerò le 9 maglie alte e poi staccherò il il filo dopo aver lavorato le 9 maglie alte per 15 giri stacco il il filo vado su un altro lato riprendo se vedete qui abbiamo la coppia delle maglie alte chiuse insieme che abbiamo fatto le diminuzioni prendo qui l'inizio della seconda diminuzione mi aggancio al filo e lavoro 3 catenelle 1 2 3 maglie alte e chiudo poi lavoro come abbiamo fatto in precedenza lavoro tutta la riga di maglie alte fino a giungere alla fine dove effetto la nuova diminuzione e lavorerò come abbiamo fatto per la prima parte in giri di andata e ritorno diminuendo all'inizio e alla fine del del giro fino a ritrovarmi con le 9 maglie alte e lavorerò per 15 righe tutte 9 maglie alte quindi ripeto ho fatto la prima diminuzione lavoro tutte le maglie alte fino a giungere alla fine della riga dove dovrò effettuare la nuova diminuzione lavorerò in giri di andata e ritorno effettuando le diminuzione all'inizio e alla fine della riga come fatto in precedenza sino a ritrovarmi con 9 maglie alte che lavorerò per 15 giri e poi taglierò il filo e in questo modo dovrete lavorare anche le altre due parti ci vediamo tra poco ho terminato anche l'ultima delle mie quattro parti taglio il filo e tiro adesso prendo abbiamo le quattro parti come potete vedere prendo le due estremità di due parti devono essere così dello stesso lato prendo le due estremità le affianco sul dritto del lavoro prendo lago infilo duncine infilo in questo modo allora abbiamo detto sulla dritta del lavoro quindi dritta dritta del lavoro e le affianco inizio la mia cucitura quindi con lago vado nella catenella della prima maglia alta tiro e camminando di maglia in maglia cucio quindi prendo la seconda solo il primo filo della maglia solo il primo filo della maglia vado nella seconda maglia alta e tiro e cammino in questo modo 1 e 2 affiancando le maglie 1 e 2 senza tirare molto altrimenti vi tirerà il il lavoro e verrà brutto continuiamo in questo modo una un lato e l'altro lato un lato l'altro l'altro l'ultima mai alta con la prima mai alta di qua in questo modo adesso prendete il filo lo passate così sull'altro lato tirate andate sul rovescio del lavoro effettuate un piccolo passaggio tra le maglie in questo modo create un piccolo nodino un piccolo nodino su nascosto su una maglia e passate il filo nascondendo lo tra tra le maglie in questo modo e tagliate il filo adesso ecco qui adesso con il filo l'altro capo del filo dell'altra parte inserite di nuovo lago infilati di nuovo lago e ripassiamo al rovescio questo perché perché essendo una bretella è meglio poterla rinforzare poiché è una una borsa quindi facciamo come abbiamo fatto sul dritto del lavoro maglia maglia quindi ripasso allora se come sulla dritta abbiamo preso solo un filo della maglia alta la stessa cosa lo facciamo sul rovescio prendiamo il filo che è restato libero quindi 1 e 2 e rinforziamo così la cuscitura della nostra bretella vedete perché qui è restato aperto perché noi abbiamo preso solo un filo sulla dritta del lavoro e adesso ci chiudiamo anche sul rovescio abbiamo quasi terminato le ultime maglie e 1 e 2 mi raccomando di farle combaciare bene perché altrimenti vi tirerà su un lato del lavoro in questo modo adesso per non far venire questo gradino un po anche estetico io passo il filo qui e lo giro di qua e tiro in modo che faccio combaciare meglio le maglie alte ecco qui ok adesso come abbiamo fatto per l'altro lato passo tra qualche maglia mi creo un nodino invisibile scappato il filo scusatemi infiliamo di nuovo l'ago infiliamo di nuovo l'ago in questo modo ecco qui allora mi creo il nodino invisibile passo tra tra alcune maglie in modo che non taglio il filo sotto sotto perché sempre per la paura che si possa sfilare e così qui abbiamo finito e tagliamo allo stesso modo allo stesso modo cucite le altre due bretelle ho cucito entrambe le bretelle vedete come si inizia a presentare la borsa sembra la parte superiore di una canotta adesso prendendo il centro del lavoro contate fino al ventesimo giro giunte al ventesimo giro tra il ventesimo e il ventunesimo giro sul rovescio del lavoro lavorate tutto un giro a maglia bassissima quindi prendiamo il rovescio del lavoro contiamo i nostri giri arrivata tra il ventesimo e il ventunesimo giro piegate in questo modo il lavoro reinserite l'uncinetto inserite l'uncinetto tra la riga e lavorate a maglia bassissima per tutta la circonferenza sempre senza sbagliarvi tra il ventesimo e il ventunesimo giro così per tutta la circonferenza terminato il giro di tutta maglia bassissima lavorate una catenella staccate il filo tirate e chiudiamo poi ritorniamo sulla dritta del del lavoro e dobbiamo lavorare dei fiorellini così adesso vi faccio vedere come si lavorano prendiamo del filo lavoriamo nell'anello magico lavoriamo due catenelle che saranno la nostra mezza maglia alta quindi una due cinque catenelle una due tre quattro e cinque mezza maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 mezza maglia alta altri cinque catenelle 1 2 3 4 5 mezza maglia alta dobbiamo creare sei petali 1 2 3 4 5 mezza maglia alta sono 1 2 3 4 1 2 3 4 5 mezza maglia alta 1 2 3 4 5 e tiriamo poco il filo dell'anello magico e andiamo a chiudere nella prima nella nella catenella nella seconda catenella iniziale che saranno la nostra mezza maglia alta poi lavoriamo nell'arco di 5 catenelle lavoriamo una maglia bassa una mezza maglia alta 3 maglia alta quindi una 2 e 3 mezza maglia alta maglia bassa nell'arco successivo lavoriamo nuovamente mezza una maglia bassa la mezza maglia alta le 3 maglie alte quindi una 2 e 3 la mezza maglia alta e la maglia bassa allo stesso modo lavorate gli altri petali ho terminato di lavorare i miei sei petali e chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella tiro il filo e taglio un bel po di filo perché dovete chiuderlo sulla borsa adesso per l'applicazione dovete stare attente nel mettere la borsa così questo deve essere il verso giusto per iniziare ad applicare i fiori quindi dovete applicarli qui dove abbiamo lavorato la ripresa con l'ago infilate prima prendete filo centrale del fiorellino allora prendete il filo centrale del fiorellino andate qui dove c'è la chiusura passate l'ago e fermate il fiore dietro con dei punti nascosti lavorate un piccolo nodino e passate il filo come abbiamo fatto in precedenza tra le maglie sempre per non tagliarlo sotto che è pericoloso perché potrebbe sfilarsi tagliamo il filo in eccesso poi riprendiamo il filo di chiusura lo infiliamo nuovamente così e sempre con dei punti nascosti blocchiamo i petali prendendo la parte centrale del petalo tra le maglie in questo modo e lo bloccate con dei punti nascosti in questo modo e lo fermiamo leggermente continuiamo abbiamo quasi terminato camminate tra le maglie così non si vedrà il filo e bloccate l'altro petalo eccoci qua continuiamo blocchiamo l'altro e poi l'ultimo petalo andiamo sul rovescio passiamo il filo e leghiamo con un piccolo nodino e nascondiamo il filo tra le maglie e tagliamo quello in accesso così adesso se volete potete rimanere il fiorellino così oppure come ho fatto io gli ho aggiunto una piccola perlina adesso andiamo con la lavorazione della rosa che ho applicato sulla parte alta iniziamo come abbiamo fatto il il fiore semplice quindi anello magico lavoriamo due catenelle 1 e 2 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 mezza mai alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 mezza mai alta in effetti dovete lavorare il fiore come abbiamo fatto in precedenza ho terminato il fiorellino come l'abbiamo effettuato prima adesso cosa faccio chiudo con una maglia bassissima qui sulla prima catenella poi tiro un po col filo volto il lavoro vi faccio vedere volto il lavoro e vado a prendere attraverso la mezza maglia alta il filo e lo tiro in questo modo chiudendolo con una maglia bassissima poi lavoro 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 vado nella mezza maglia alta successiva tiro il filo e lavoro una maglia bassissima 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 procedo allo stesso modo vado attraverso la mezza maglia alta di traverso mi tiro il filo e lavoro la con la maglia bassissima e chiudo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e procedo come prima inserisco l'uncinetto di traverso mi tiro il filo e con la maglia bassissima mi chiudo nella catenella 1 2 3 4 5 6 e procedo un'altra chiusura 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 e chiudo con qui aspettate scusatemi l'ultima chiusura con la maglia bassissima 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 e vado a chiudere all'inizio con una maglia bassissima all'inizio del primo arco di 6 catenelle che abbiamo effettuato quindi poi lavoro una maglia bassa una mezza maglia alta una maglia alta 3 maglie alte doppie 1 2 3 1 2 e 3 poi una maglia alta una mezza maglia alta la maglia bassa e così lavoro in tutti gli archi di 6 catenelle che ci troviamo dietro al fiore quindi maglia bassa mezza maglia alta una maglia alta 3 maglia alti doppie 1 2 3 maglia alta mezza maglia alta maglia bassa e così procedo negli altri spazi negli altri archi di 3 catenelle ho terminato il mio ultimo petalo inserisco l'uncinetto nella prima catenella effettuata lavoro una maglia bassissima e taglio il filo tiriamo e come abbiamo fatto per il fiore piccolo stringiamo il cerchio magico e lo andiamo a posizionare sulla parte alta della della borsa e come abbiamo cuscito i fiori piccoli cuciremo anche questi grandi sempre se volete potete mettere la perlina oppure lo lasciate così semplice ho finito di legare di attaccare i miei ultimi fiorellini come vi ho fatto vedere ho messo delle perline per renderla un poco più più gentile questa è la borsa terminata una borsa sacchetto spero che che vi piaccia che vi sia piaciuta e in caso sia così spero che mi lasciate tanti like che vi iscrivete al canale perché ci saranno tante altre novità per quanto riguarda le borse e spero di aver accontentato l'amica del gruppo di creare con katia e ale grazie alla prossima